...diventava gariga con un po' di disturbo, dicevamo un altro po' di disturbo, steppa e poi deserto. Perché ci si preoccupa? Perché oltre ai fattori antropici, oltre ai fattori portati dall'uomo a modificare il suolo, come per esempio sono gli incendi, nomino sempre gli incendi perché è una forma di distruzione di massa degli esseri viventi che si trovano sulla faccia della terra, perché il fuoco poi a seconda della temperatura e del tempo che rimane in un certo punto sterilizza e cuoce e distrugge anche quello che sta sotto, quindi anche i microorganismi. Se passa velocemente è una cosa ma se rimane un po' di più, se l'allettiere è alta, sterilizza anche sotto oltre che sopra. E quindi questo è il disturbo più emblematico per capire cosa succede quando un suolo viene disturbato in modo eccessivo. E noi ci cominciamo a preoccupare perché molte situazioni in Italia sono già qui, sono già alla steppa. E si parla infatti di desertificazione dell'arco ionico, ma non solo, c'è anche la desertificazione che può avanzare in altre aree d'Italia. Maggiormente quelle meridionali, però il problema che si è venuto ad aggiungere al disturbo antropico è il clima. Il clima è aumentato, la temperatura è aumentata. È inutile come negli anni 90 tutti si nascondevano dietro un dito e dicevano No, ma l'effetto serra è un allarmismo ambientalista. No, io dico che a volte quando si parla di un problema bisogna valutare se può essere valido o no. Io all'inizio certamente tendo anche io a non fidarmi, a essere diffidente, però vivendo a contatto con le piante mi accorgevo di cose strane, del tipo che certe piante, in alcuni ambienti diversi d'Europa, dove ci andavo molte volte per lavoro o altri motivi, nello spazio di cinque anni, il primo anno non trovavo semi fertili, l'ultimo anno li trovavo. Quindi la pianta aveva avuto una temperatura ideale per produrre semi. Magari una pianta che aveva bisogno di maggiore calore stava in un ambiente troppo freddo, tipo il nord Europa. produceva semi fertili. Quest'osservazione la facevo perché a me servivano i semi, quindi trovavo un bell'albero, volevo prendere dei semi in un giardino, si chiedeva se posso raccogliere dei semi, se ci sono, qualche pianta, e ho visto che i semi diventavano fertili. All'incontrario, le piante che il primo anno avevano semi fertili, dopo cinque anni i semi non erano più fertili, erano vuoti, sterili, le condizioni erano cambiate. E qui la dice lunga sull'adattamento delle piante al clima, se ne accorgono subito e reagiscono subito. subito inteso in pochi anni. Perché c'è una forma di adattamento, mi dispiace non aver potuto preparare un'immagine, dove si valuta l'adattamento di una pianta in base a quanto può crescere e quanto può produrre. Ad esempio, si mette un albero e cresce. Ok, va bene, il singolo individuo è andato bene e sta crescendo. Se quest'albero, oltre a crescere, produce dei fiori, è un passo in più, significa che sta ancora un po' meglio, le ornamentali per esempio. Se i fiori danno luogo anche a dei frutti, un altro passo in più, sta ancora meglio. Se i frutti danno luogo anche a dei semi fertili, siamo quasi all'apice, ma non siamo sulla cima. Il caso del carrubo, in ambiente mediterraneo, cresce, va bene, produce semi fertili, ma non tutta l'area mediterranea italiana produce piantine. Il top si raggiunge quando i semi fertili cadono al suolo e nascono le piantine. Ed è la cosa normale che fanno tutte le piante spontanee. Si autoriproducono. Quindi importare una pianta, anche diversa quella che sia, metterla da noi, se questa produce i semi fertili, ha raggiunto il massimo, ha raggiunto, scusate, semi fertili, piantine, ha raggiunto il massimo dell'acclimatazione, si può dire, il massimo dell'adattamento. Ci sono scale graduali. E si fa, appunto, come ho indicato, in modo molto semplice, guardando i semi, i frutti, se ci sono, se sono più o meno fertili o sterili. Un seme sterile è un seme che ha magari anche il guscio, tutta la forma, ma se lo schiacci dentro è vuoto, come capita a volte, per esempio, per delle mandorle, che schiacciandole non c'è il nostro tanto amato seme. Quello è un seme sterile. Invece quando è fertile significa che c'è qualcosa di biancastro, oleoso. Tra l'altro i semi hanno anche una riserva di oli per proteggerli dalla disidratazione. E quindi è facile da vedere. Un seme fertile significa che dentro è pieno, e poi è di colorazione più o meno biancastra, ma insomma è consistente. C'è la polpa, chiamiamo così, in termine tecnico e in termine pratico. Allora, la gariga è una formazione floristica secondaria, rappresentata dal stato involutivo, derivata dalla creazione delle macchine a seguenti fattori. Eccoli qua. I fattori sono tanti. Io insistevo e ricalcavo la mano sugli incendi, perché gli incendi sono una catastrofe per gli ambienti mediterranei e non solo. Altri fattori che danno una mano ad accelerare il processo di involuzione, cioè far diventare la nostra macchia più bassa, più distrutta, o addirittura cancellarla, questa significa involuzione, ci si può aggiungere l'aridità, la rocciosità del suolo, l'erosione del suolo, un incendio in una zona in pendenza comporta, con la prima pioggia, il dilavamento totale anche di quella minima frazione di nutrienti che era stata ottenuta dalla combustione delle piante. Quando bruciano le piante si ottiene cenere che a sua volta contiene potassio, che potrebbe essere un concime utilizzato per le piante da frutto, per dare migliore sapore ai frutti. Ma se siamo in pendenza, tutta questa roba viene dilavata con una prima pioggia. Quindi pensate un po' a cosa è successo, abbiamo perso l'humus, abbiamo perso i microgranismi, le piante e quant'altro e soprattutto abbiamo perso i nutrienti. Pascolo con carichi eccessivi era un problema più o meno legato al passato, adesso è rimasto solo localizzato qua e là. Con mio rammarico devo dire che purtroppo questa situazione è rimasta in ambienti abbastanza delicati, come per esempio sulle cime del Pollino, dove ci sono i pini loricati. Attualmente c'è un carico eccessivo di bovini e cavalli che pascolano là tutte le state, calpestano tutto quello che c'è davanti e mangiano tutte le piante erbacee che esistono. Compattono il suolo, hanno degli zoccoli molto grandi, c'è un numero di capi maggiore di quanti fili d'erba ci sono, praticamente, quello succede. Per le solite politiche del cavolo, cioè danno un incentivo a tenere degli animali allo stato brado, perché il costo di arrivare gli animali su una montagna di nessuno, tra virgolette, è bassissimo, è zero, non si deve pagare un grosso affitto o al limite si paga quella che si chiama la concessione, che la concessione è irrisoria. Ma rispetto al danno che questi provocano sull'ambiente, la concessione, l'allevamento di quelle quattro vacche è una pidocciosità, perché quelle vacche non sono quegli animali, cavalli o altre che si, non sono competitivi col mercato, hanno un valore, quegli animali, bassissimo, anche se fanno caciocavallo di grande qualità, ma è bassissimo, perché gli animali allevati allo stato brado hanno una rendita, una crescita molto limitata rispetto a quelli allevati in un ambiente circoscritto. Certamente, non sto parlando di allevare gli animali tutti legati nelle gabbie, perché quello è l'altro estremo dell'assurdità, ma quantomeno tenerli in ambienti più o meno controllati o comunque spostarli in montagna, andrebbero bene anche ipoteticamente sul pollino, ma non quattro mesi all'anno, che brucano da appena spuntano le piante fino a quando hanno finito di esistere e arriva il freddo e le blocca. Un cavallo, in termini pratici, un cavallo allevato allo stato brado uno o due anni ha un prezzo, sapete di quanto? 250-300 euro al capo. Cioè se vendi 4 kg di patate un altro po' ti fruttano di più. Insomma, questo è riferito spesso alle istituzioni che dovrebbero essere i primi a dare esempio, dovrebbero dare l'esempio, il problema da no c'è, qualcuno se ne accorge, qualcuno non se ne accorge, chi dovrebbe fare qualcosa fa finta proprio di non saperlo come se vivessero tutti nel paradiso terrestre. E le piante non si riprendono, non crescono. Sul pollino, se si va d'estate, anche da appassionati e si vuole raccogliere, si vogliono raccogliere, si vuole raccogliere un catalogo fotografico delle piante erbace, non le trovi, devi andare sui dirupi dove non arrivano le vacche e i cavalli, perché sono tutte brucate, tutte. Immaginiamo le piante arboree se possono crescere in ambienti già difficili. Quindi questi sono i nostri fattori che vanno ad incidere, ma ripeto, a carico di tutti questi fattori c'è sempre l'uomo. Altre piante rappresentative, questa volta, della gariga, rosmarino, lavandula, stecas ed elicrisum italicum. Elicrisum italicum, mi comincio a parlare di questa pianta, ne possono essere ottenuti oli essenziali, è una pianta alta circa 50-60 cm con le foglie grigiastre e i fiori gialli e una composita, famiglia, insomma, delle margherite, dei cardi, delle cicorie. E questa composita in Basilicata vive in ambienti che sono di gariga e sono le fiumare, gli alvei dei fiumi, distrutti per il dissesto idrogeologico. Un fiume che era 10 metri di larghezza dell'alveo in 150 anni è diventato 200 metri o addirittura anche un chilometro di larghezza per le luvioni dovute sempre al taglio dei boschi, montagne, il solito sovrappascolo, ha portato queste lettiere all'interno dei fiumi enormi di ghiaia. Ghiaia, sabbia, come vicino alle spiagge, sabbia, roccia, lo stesso ambiente molto simile. E' un po' più freddo, ma comunque anche quella è una gariga. I letti delle fiumare dove crescono queste piante sono delle garighe. Occasionalmente qua e là tenta di crescere qualche pioppo, qualche salice che sono ambienti delle lette fiumare, però non spesso ce la fanno perché l'acqua non passa più, adesso l'acqua passa solo al centro o su un margine e tutto il resto è diventata gariga. Sono ottimi depositi di ghiaia per l'utilizzo della ghiaia. Il microfono dov'è? Se può venire avanti per favore. E questa insomma è la nostra gariga che si può trovare in diversi ambienti. Tiro in mezzo la situazione che conosco da vicino perché sono ambienti molto differenti dalla politica. Dimmi. Ci puoi dire per favore come si può riprodurre l'elicrisum italicum? Ah, l'elicrisum italicum, sì. Allora, che io sappia si riproduce da seme, però ha bisogno di terreno sabbioso terreno sabbioso, quasi sabbia più che terreno. Se la si può tentare di riprodurre in vaso un piccolo appezzamento in un cassetto come al solito, l'elicrisum andrebbe seminato subito dopo il dissecamento dei fiori. Quando i fiori seccano dopo pochi giorni, qualche settimana già i semi sono maturi anche perché la maturazione è scalare. All'interno della stessa corolla i fiori che si sono aperti prima già hanno semi maturi. Quindi appena è finita la fioritura si prende sto capolino e si dissemina così sparpagliando. I semi sono piccolissimi e avviene un po' come quello che avevo detto in precedenza per l'erica, vanno messi in superficie. E allora, appena è finita la fioritura, sì, mi pare che l'elicriso abbia finito la fioritura, non mi ricordo più in questo momento ma credo che l'abbia finita quindi va bene perché tra l'altro le piantine di queste specie cominceranno a crescere come le piante erbace nel periodo favorevole. Non avrebbe senso farle nascere in primavera in un ambiente naturale che diventa troppo arido. Nascono e cominciano a crescere in inverno anche nell'interno della Basilicata. Sono resistentissime pure al gelo. Solo sabbioso significa che se lo si prepara in casa si deve tenere presente che la componente principale deve essere sabbia fine intorno al 60-70% e il resto altro tipo di terriccio anche il 80% a volte sabbia. Cresce in ambienti veramente difficilissimi. Però la riproduzione da seme da talea non ho provato non conosco altre tecniche se c'è talea o distacco dei rami basali. Dimmi. Ferrovia? Ah sì. Hai trovato questa piazza? C'era un pezzo di ferrovia che hanno dismesso hanno deviato lungo i bordi delle rotaie ho trovato molti di questi Perfetto. Perché la ferrovia vorrei aggiungere è stata costruita su una scarpata artificiale fatta di ghiaia quindi non è suolo e ghiaia accumulata lì per il sostegno della ferrovia stessa è un ambiente difficilissimo e questa pianta in qualche modo ne è bastata che qualche seme andava ad arrivare anche lì e poi si è diffusa perché ha trovato le condizioni ideali per lei. Non è competitiva con l'erbacee non è competitiva con gli arbusti e quant'altro pieno sole suolo sabbioso deve stare diciamo libera solo lei. Ma volendo può crescere in mezzo alle altre piante cioè in situazioni di fertilità diciamo così? No perché le altre piante sono più veloci rischiano di seppellire infatti nella gariga mi ti ringrazio di questa precisazione mi hai fatto prima una cosa importante nella gariga c'è un numero molto minore di individui per superficie le piante sono poche piccole e distanti tra di loro ecco il solito problema della disidratazione del suolo non sono tutte vicine questa qui per quanta ce n'è in abbondanza ma comunque permette al sole e alla luce di arrivare fino al terreno intorno a lei e non è competitiva qualsiasi altra pianta riesce sono profumatissime almeno a me personalmente piace tantissimo le vado a cercare perfetto mi fa piacere anche di questa possibilità di utilizzazione avevo cominciato a dire che se ne estraggono degli oli essenziali quindi altra pianta è la mezza mediterranea che resta lì di per sé ma può essere utilizzata per diversi aspetti rosmarino e lavanda conosciamo forse già abbastanza tutte le utilizzazioni che vengono fatte dalla cucina anche qui agli oli essenziali e tra l'altro sono piante tutte e tre insieme all'elicriso che arricchiscono e abbelliscono parecchio un paesaggio degradato e nelle domande che precedentemente mi erano state fatte a proposito della gariga oltre la tamarice e le graminacee si può tentare a seconda delle condizioni che ci troviamo di mettere qualcuna di queste piante perché anche il rosmarino può crescere nell'alveo dismesso delle fiumare o sulle scarpate dove c'è molta roccia però rispetto all'elicriso ha bisogno di un po' di substrato in più anche se fosse limo o un minimo di sabbia finissima di argilla e quant'altro ma va bene si può provare anche perché lavanda e rosmarino si moltipliano per talea proprio per risparmiare sui tempi e sui costi in questo periodo fino a novembre dicembre se ancora fa caldo si possono prendere dei rametti e infilare qua e là naturalmente dove li andiamo a infilare dove c'è spazio dove c'è luce tra i cespugli esistenti perché se li andiamo a mettere all'ombra sotto già qualcosa di esistente poi la competizione è forte perché noi andiamo a inserire delle talee allo stato naturale e non si ha una grande garanzia la talee bisognerebbe farla in situazione controllata e poi inserire la pianta con il pane di terra con il vasetto di terra tutto bello integro domande? sì la lavanda che segnala da lì non è quella classica che si trova nei vivai che dovrebbe essere la officinalis sì perché c'è una cosa ecco che avevo tralasciato lavanda o lavandula ne esistono diverse e tante specie tante specie che a volte diventa anche complicato distinguerle per gli esperti io ho notato che ci sono delle lavande che crescono nelle zone di gariga delle spiagge mediterranee fino sul pollino a 1600-1800 metri c'è un'altra specie che vive pure fino lì sempre sotto forma di piccoli cespugli rotondeggianti tra le rocce hanno in comune il fattore aridità in montagna c'è anche il freddo e vicino al mare c'è sale ma sono sempre lavande specializzate sì ce ne sono molte specie alcune sono ornamentali con le foglie di determinati colori ma alla fin fine a noi interessa trovare la specie magari possibilmente quella che esiste già là intorno allo stato spontaneo e qua ho introdotto un altro problema là intorno allo stato spontaneo a volte significa fare chilometri per trovarla perché lo stato spontaneo è stato spostato molto lontano da noi quindi bisogna girare guardare cercare i vivai non cercano in questi termini ma cercano con altre soluzioni più commerciali la steppa dopo la gariga abbiamo la steppa caratteristica delle regioni al clima continentale con i veri freddi estate calde moderatamente piovose allora cosa succede che la steppa eccola qua sotto poi ve lo leggo per andare velocemente la recensione è costituita da prateria quindi solo erbe questa volta solo erbe per lo più graminacee o piante simili e quella situazione la steppa dell'evoluzione del suolo quando si partiva dalla roccia nuda se vi ricordate c'erano i licheni c'erano i muschi poi le graminacee quindi siamo proprio indietro indietro qua nel tempo e nell'evoluzione 4 graminacee anche magari un bel prato è stato dato questo nome a questa formazione che è tipica nelle pianure fredde e continentali il clima continentale non c'è in Italia non esiste però guarda un po' è successo che una formazione simile alla steppa del clima continentale sta e comincia a crescere anche da noi con altri fattori il nome steppa è stato usato come un riferimento ma certamente la steppa dell'Asia centrale non è come la nostra steppa e di simile hanno questo che lì l'estate anziché essere calde e moderatemente piovose cioè lì sono calde e moderatemente piovose qui sono completamente asciutte la piovosità l'umidità viene spostata in autunno-inverno ma comunque rimane sempre molto bassa l'umidità sotto ancora la ah gli alberi sono assenti in modo completo e si vede bene da questa immagine la steppa nelle zone sì sì perché nelle zone d'Asia interne dove non arrivano correnti umide dal mare perché è troppo distante anche l'oceano quella è una condizione di climax cioè è così perché là può crescere solo quello e in certi altri ambienti del mondo c'è il deserto perché là può esserci solo il deserto a parte le modificazioni fatte dall'uomo il deserto è Sara si è espanso ed è cresciuto a cominciare forse anche dall'epoca degli egiziani che hanno cominciato a pascolare con le capre a distruggere tutto se no il Sara è più piccolo il clima ha dato una mano e gli esseri umani pure hanno dato l'altra mano e queste formazioni sono naturali in quegli ambienti ma da noi no questa è la differenza non ci sono alberi e quant'altro però ecco qua dove volevo soffermarmi ancora un momento le caratteristiche più simili alla steppa in Italia che si ha in Sardegna e Sicilia guarda un po' le regioni più calde però grazie a un particolare clima locale però in alcuni terreni steppici in Italia possono essere considerate le crete senesi l'altopiano del formicoso in Irpinia che l'Irpinia uno immagino fresca bella piovosa e quant'altro e alcune zone del Salento eccolo qua Torre Gauceto là intorno c'è la steppa ed è venuta fuori per modificazioni antropiche fatte dall'uomo non è venuta fuori perché è arrivato il clima continentale serve certamente adesso ognuno riflette dove abita dove si ritrova se ci troviamo in una di quelle zone intervenire lì significa partire con la steppa e con tutte le problematiche che abbiamo detto precedentemente l'aridocoltura questa è una brevissima piccola introduzione per le lezioni che seguiranno di pomeriggio con Angelo io l'ho messa soltanto per darvi un'idea di che cosa ci aspetta anche se già abbiamo abbastanza idee su che cosa si andrà a parlare nelle lezioni successive è l'insieme delle pratiche tipiche degli ambienti aridi del merito terraneo caratterizzato dall'assenza di irrigazioni che permettono di conservare l'acqua in terreno a disposizione delle piante cioè per farla breve l'aridocoltura una volta è tentato a pensare di dire io coltivo i pomodori in arido più o meno si potrebbe anche fare ma non è proprio quella l'aridocoltura a cui ci stiamo riferendo l'aridocoltura è quella di coltivare sì in arido ma assecondando le condizioni naturali la solita semina del grano che dicevo fatta in autunno permette la crescita nel periodo umido crescita nel periodo umido e poi raccolta quando viene caldo stessa cosa con le cicorie le rape e quant'altro poi con le modificazioni che non sono fatte fatte su queste piante si sono ottenute tante varietà come dicevo a proposito delle rape e si sono ottenute rape che producono cime di rape praticamente ogni 40 giorni ogni mese ce n'è una varietà che matura forse da settembre fino ad aprile e benvenga tutto questo ok va bene però l'aridocoltura insomma asseconda le caratteristiche del luogo in cui si va ad agire non è che si può pretendere di coltivare i pomodori senza una goccia d'acqua ci si riesce però al momento dell'impianto anche il pomodoro va irrigato se mettiamo le piantine o se mettiamo dei semi in una buca vanno inumiditi per farli germogliare poi si riesce anche a farlo crescere il pomodoro senza tante irrigazioni noi con questo sistema in Basilicata coltiviamo i pomodorini quelli che si conservano d'inverno che non devono essere irrigati se no hanno troppa quantità di acqua e non si conservano più quindi cosa facciamo noi non li seminiamo per accelerare i soliti processi sì i seccagni quelli che si appendono o piennolo come si chiama in Campania quindi questi pomodorini di almeno due varietà quelli rossi ovali rotondi e quelli gialli anche da insalata più o meno grossi secondo le varietà si piantano in terreno che è stato lavorato in precedenza o anche semilavorato insomma dove non ci sia troppa competizione di erbace e si piantano e si innaffiano moderatamente una o due volte dopo l'innaffiatura o si mette un po' di pacciamatura paglia per esempio e si ricopre la paglia con del terriccio asciutto oppure si ricopre con il terriccio asciutto direttamente la parte irrigata così che la parte bagnata rimane sempre bagnata non si formano le fessurazioni non si spacca perché lì andando ad irrigare in una situazione del genere come in un orto normale una buona percentuale forse il 30% dell'acqua dai 10 litri 3 litri se ne vanno per evapotraspirazione si asciuga e si spacca poi vedi che è spaccato e corre di in un fiare altri 3 litri se ne sono andati sotto e solo altri altri 3,3 naturalmente su 10 saranno assorbiti dalla pianta abbiamo sprecato il 60% d'acqua con questo sistema se non si protegge il suolo e sprecare il 60% d'acqua per delle piantine a livello familiare è costoso insomma è dispendioso ma sul livello un po' industriale diventa veramente un'assurdità tecniche di aridocultura anche qua solo dei piccoli accenni le arature profonde allora qua cominciano a dividersi di nuovo le nostre strade per chi vuole fare permacultura o altre tecniche le arature profonde non sono considerate perché si usano altri sistemi e va bene si può fare le tecniche di aridocultura possono prevedere però anche delle arature profonde perché i suoli argillosi molto argillosi più argillosi questi della Puglia sono fertili a patto che vengono rimossi questo fatto di rimuovere i terreni argillosi in profondità profondità significa 60 70 80 centimetri permette ai nutrienti di essere rimescolati rimiscelati anche perché poi i terreni argillosi a contatto con il sole si dice si cuociono diventano friabili ecco la cosa particolare che l'argilla a contatto col sole l'argilla in condizione di umidità è come il DAS quello che usano i bambini per impastare infatti ci fanno i vasi quando è umida e quando è bagnata ma se perde l'acqua diventa friabile si spolvera diventando friabile spolverandosi migliora le sue caratteristiche spolverandosi entra l'ossigeno entrando l'ossigeno poi le radici possono andare velocemente un'aratura profonda una cosa del genere è quella che viene fatta quando si impiantano per la prima volta i frutteti poi ci si aggiungono anni fertilizzanti più o meno quelle che uno si deve fare però per piccole conduzioni un'aratura del genere la si fa una volta e poi basta se il nostro suolo lo vogliamo mantenere invece indisturbato si devono applicare altre pratiche che sono appunto quelle della permacultura però gli altri sistemi andando avanti le pacciamature con film plastici per ridurre le perdi di evaporazione questo esempio che ho rifilato è quello che si fa con le fragole le fragole si coltivano su certi cumuli di terreno dove viene messa una piantina ogni tanto sotto questo cumulo passa un tubo di irrigazione e il tutto è ricoperto da un film plastico e c'è una macchina che fa tutto questo procedimento tranne quella di piantare le piantine che mi pare che ancora è fatta in modo manuale però in questo modo tutta l'acqua che viene iniettata da sotto non viene dispersa e poi tra l'altro il frutto delle fragole che è a contatto col suolo si potrebbe sporcare bagnare o marcire e quindi appoggiandolo sul film plastico non si degrada il film plastico però ha un problema perché purtroppo ho notato che usano dei film plastici che loro chiamano degradabili io li chiamo porcherie perché perché questa robaccia rimane nel terreno e oggi non si sa se veramente si degrada o chissà cosa mi libera a lungo andare perché finché lo facciamo una volta come tutte le cose finché si fa una volta non succede niente ma se la si fa sempre forse qualche problema insomma potrebbe causarlo quindi il film plastico io consiglierei di fare con dei film plastici che non sono degradabili che si possono togliere utilizzare finché è possibile e poi togliere non ho avuto tempo di provare ma volevo fare una cosa del genere facendo questo tunnel non ho acqua a pressione perché anche da me l'acqua non è in più e non l'ho potuto applicare oltre che per il tempo perché una volta che hai fatto questo tunnel metti le fragole le tieni due o tre anni poi togli le fragole e sempre su questa specie di monterozzo baulatura grazie ci si possono mettere altri ortaggi che hanno bisogno di sostanze nutritive diverse da quelle che ha sfruttato la fragola e quindi potresti usare questo monticello questa baulatura per diverse specie per un tempo più lungo anziché togliere e mettere tutti gli anni questo sembra per piccole coltivazioni private film plastici possono essere un supporto ma sono certamente sono un po' brutti anche faticosi se li fai a mano faticosissimi quindi è meglio optare per l'opzione successiva c'è barriere frangivento che consentono di mantenere più bassi tempi e mantenere l'evapotraspirazione cioè le barriere frangivento sembrano una sciocchezza ma anche una brezza piccola un vento leggero provoca una disidratazione enorme alle piante anche una piccolissima brezza provoca disidratazione perché continua e la pianta resiste e resiste poi alla fine non è che può resistere tanto specialmente ortive delicate e quant'altro quindi delle barriere frangivento vanno considerate dove ci sono dei venti dominanti nei periodi in cui andiamo a coltivare se coltiviamo rape o fave e non ci sono venti dominanti in quel periodo non c'è bisogno ma per gli agrumi che hanno un ciclo estivo qualche vento dominante lo beccano e il frangimento si rende necessario anticipo delle semine eccolo qua questo secondo me è il nocciolo di tutta la questione anticipo delle semine e colture resistenti questi due questi due parametri non li ho messi alla fine per minore importanza li ho messi alla fine per soffermarsi di più perché lì dentro sta la maggior parte delle volte la garanzia del nostro successo anticipare le semine significa a volte fare attenzione alle condizioni ambientali e seminare un po' prima di quello che si dice di seminare perché il clima varia continuamente e anticipare significa dare la pianta la possibilità garantire la pianta la possibilità di accumulare un po' di umidità in più e vi ricordo scusatemi se sono ripetitivo che un po' di umidità in più un po' di qualche fattore in più quello che per noi sembra un po' per la pianta fa la differenza tra la vita e la morte se ci si può aggiungere l'ultimo punto c'è colture resistenti e spesso ricavate tra le vecchie varietà abbiamo raggiunto il top in questo caso perché partiamo già con delle piante più forti ad esempio estremo le nostre piante di lattuga croccante con le foglie così grandi sono delicatissime ma se riuscissimo a trovare una lattuga con le foglie un po' più piccole anche se sono meno croccanti ma non richiede tante problematiche forse abbiamo trovato una soluzione in più mi rendo conto che questo è complicato per due motivi uno perché le vecchie varietà sono a rischio di estensione immediata intanto che io parlo qualche varietà è scomparsa sia di erbacee che di alberi e l'avevo detto nei giorni precedenti io a proposito di alberi me ne sono occupato trovavo una sola specie di pero dentro dei rovi in un posto lontano e se a volte mi dicevano vabbè ma lì non ci si può andare ci andiamo l'anno prossimo quando andavo l'anno prossimo l'albero era caduto perché era marcio e ormai era andato giù e non si potevano ricavare marze per gli innesti le vecchie varietà ortive sono quelle a maggiore rischio perché hanno bisogno di cicli annuali di essere piantate io ho puntato sugli alberi perché non ho molto tempo e da un po' di tempo da quando sto cominciando ad avere più piante posso cominciare a pensare alle ortive le ortive uno o due anni puoi conservare i semi poi li devi ripiantare e il problema che diceva il relatore precedente del primo corso a proposito dei seed savers era quello anche di piantare un certo numero di individui non è che se ho del mais metto dieci piante e ho assicurato la progenia e basta no ha indebolimento genetico proprio a proposito del mais c'è un numero molto secondo me in piccolo appezzamento molto elevato ci vogliono almeno tanta piante per conservare la biodiversità genetica se non le piante come a un certo punto diventano tutti fratelli tutti sorelle anziché diventare una specie robusta poi diventano una specie debole sistemi le foto di quello che avevo mostrato prima pacciamatura con i film plastici eccola qua in alto a sinistra e al centro sia per le ortive tipo lattughe quant'altro pomodori eccetera sia per le fragole poi aratura profonda questa non è eccola qua l'aratura profonda è qua sotto è questa qui ecco questa è un'aratura profonda questa qui invece può essere più che altro una sarchiatura una fresatura rimuovere il terreno in uno strato superficiale quel sistema lì diventa una perversione quando si vede il terreno che spacca inaridisce e subito si va a passare col trattore poi fanno quattro gocce d'acqua e si va a passare un'altra volta ogni volta che si passa il trattore consuma nafta schiaccia il terreno se è troppo umido e il costo cresce cresce il costo non cresce la produzione quando il costo arriva troppo in alto la produzione considerate la produzione soprattutto il prezzo di vendita per chi se ne occupa di queste cose le conosce molto bene il prezzo di vendita o è basso o addirittura molto basso può anche crollare è quasi impossibile che trovi un prezzo di vendita e tu puoi recuperare tutte quelle tecniche costose e si va in deficit poi microfono per favore dopo due o tre anni che è successa una cosa del genere si abbandona i più positivi mettono qualcos'altro qualcos'altro provano con un'altra ma chi si scoraggia presto o si rivolge verso altre possibilità di guadagno abbandona e poi nel medio e lungo termine le continue arature favoriscono la solarizzazione della sostanza organica e automaticamente si impoverisce sempre di più il terreno certo e quindi bisogna fare il calcolo non solo sulla produzione in atto ma anche sulle produzioni che andrò a fare le problematiche che erano bravo si grazie nel tempo successivo perché si pensa al guadagno di quest'anno subito come se dopo l'anno prossimo non si mangia più è pazzesco ma è così è immediato però il suolo il terreno le piante le rimettiamo un'altra volta se continuiamo con quell'attività qui c'è un esempio che è voluto prendere dei frangivento con due specie diverse quegli abbiano che potrebbero essere assunti come delle alte querce dei cecchiali qualsiasi cosa secondo il nostro quelli bassi sono piante che sono state e hanno dei rami giallastri io ho detto che siano dei salici questo perché è molto alto per proteggere insomma ah ok mi devo fermare le alte per proteggere nella parte superiore quelle basse nella parte inferiore perché gli alberi in certe volte spesso formano la chioma solo in alto nella parte media e alta del tronco il vento si infila sotto e allora si fa un'altra seconda barriera sotto in quel caso è stato usato i salici molto probabilmente perché si usano da qualche parte ancora esista si usano i rami di salici giovane per farne cesti e tantissimi altri prodotti che se ne possono ricavare dall'intreccio di questi rami quindi il salice può essere utilizzato sotto tante forme oppure una semplice siepe di sempreverdi o quant'altro da noi da noi in ambiente interraneo di solito non c'è bisogno di una barriera così alta anche perché richiede i tempi di crescita elevati ma c'è da considerare un parametro che avevo in mente di proporvi allora questa è una regola fissa a seconda di quanto è alta la siepe tanto sarà la protezione all'interno del terreno e la regola di solito è una a dieci cioè se abbiamo una siepe di un metro un metro di altezza protegge dal vento dieci metri lineari di terra se abbiamo una siepe di dieci metri protegge per cento metri misuriamo il nostro terreno misuriamo la direzione da dove calcoliamo la direzione da dove arriva il vento e andiamo a mettere la siepe giusta nel posto giusto uno a dieci quindi una piccola siepe di dieci metri che si può ottenere con con delle piante crescita abbastanza rapida scusami è che in intanto scappo stiamo facendo il cambio delle batterie quindi dicevo in ambiente mediterraneo delle piante crescita rapida dieci metri li raggiungono velocemente anche se dobbiamo ricorrere alle solite piante all'octone che non sono dai nostri climi e sono brutte e quant'altro ma è un momento una situazione transitoria la siepe non è una casa che rimane lì per secoli anche l'albero di eucalipto che viene spesso utilizzato ha una vita limitata è un albero è più importante avere subito l'effetto che preoccuparsi quello non mi piace quello è troppo rosso e quello è troppo verde e ci serve subito perché poi gli altri tempi già sono lunghi di per sé tecniche coadiuvanti di aiuto all'aridocultura l'aridocultura questa volta sembra intesa sia a livello amatoriale che industriale e l'irrigazione a goccia o la subirrigazione questa è una tecnica che hanno sviluppato gli israeliani perché si sono messi a coltivare piante da frutto di pregiate qualità in ambienti desertici in alcuni punti non era neanche steppe era già deserto e con tanti sistemi con tanta buona volontà hanno recuperato quel po' d'acqua potendo coltivare ortaggi frutta in ambienti difficilissimi questi esempi estremi di popoli popolazioni che hanno scocitato i sistemi in ambienti più difficili di noi servono come sprono a non scoraggiarsi a non buttare mai la spugna perché è molto facile dice vabbè non si può fare niente via andiamo a fare un'altra cosa se non ci interessa non si può fare niente ma se ci interessa la soluzione c'è mi fa piacere che circolava la maglietta dove c'era scritto in inglese che niente è impossibile in agricoltura di queste tecniche di queste pratiche niente è impossibile la natura il campo che sia l'orto è un laboratorio dove puoi sperimentare e lo sa bene chi di questi esperimenti li ha fatti e ha ottenute delle ottime clementine che tra l'altro ho visto che sono pure buonissime molto molto buone anzi ti faccio i complimenti perché sono squisite sia le clementine che i mapo specialmente se li hai ottenuti con una tecnica meno impattante cavoli ma io mi fidavo anche senza testimonio culato mi fidavo perché chi lavora la terra non scherza è spiritoso dentro ma non scherza con le produzioni specialmente si va a confrontare col mercato quello non scherza proprio puoi dire al microfono per favore così facciamo sentire chi sta un po' più lontano avevi pur non essendo agricoltore avevo tentato di fare una produzione senza arare sullo stile suo però tutti intorno mi hanno proprio tartassato siccome non ero del mestiere ho rinunciato avevo letto mi ero informato però chi era finanziario di me cosa stai facendo e io poi alla fine l'esperienza diventa si ti capisco e posso aggiungere che l'esperienza diventa una lama a doppio taglio se c'è l'esperienza non si discute come una legge imposta ed è universale lui aveva non è così aveva le intuizioni giuste però siccome il terreno non era del suocero quindi era proprio tuo e lo teneva lui perché era sua e quindi ti devi confrontare come ho fatto io adesso i problemi glieli faccio venire io a loro siccome io ero sicuro di dove stavo andando ora sono quell'intorno che si stanno chiedendo ma come? come mai? come caspita capi mi vengono a chiedere magari io me ne vado a mare magari si sa imparare è incredibile tu stai sulla schiazza all'inizio è iniziato qualcuno che mi diceva si ma tu ti piace a ciamare perché vuoi fare questa cosa e invece poi si ti piace andare al mare io avrei vorrei che tutti potessero venire a vedere perché lui ha detto ma c'è un paradiso perché poi in questo periodo c'è il trifoglio che cresce con in mezzo la paglia di tutti gli sfalci che ho fatto in inverno gli agrumi che sono nel massimo splendore perché si stanno per diventare rangiuni e le piante sono verde e quindi la soddisfazione è enorme e mi fa piacere che corsi del genere siano stati fatti perché il confronto è importantissimo nonostante ci sia internet però abbiamo bisogno di stare vicini certe volte perché internet non è sufficiente si abita a pochi chilometri pochi metri di distanza e non si ha l'opportunità per confrontarsi ecco adesso questa è una grande occasione quest'anno ho convinto quello di fianco che aveva problemi continuava ad avere problemi di marciuma a mettere solfato di rame che costa non sanno neanche il valore dell'acqua che dice no ci vuole l'acqua sempre a mettere acqua e si sentiva la puzza delle muffe dell'umidità nel terreno addirittura quando entravi nel terreno non avvicinandoti altro elemento da valutare anche l'odore noi abbiamo tanti sensi che ce li siamo dimenticati l'odore di muffe in un terreno non è una cosa da grandi e super esperti è qualcosa di una persona che voleva trovare una soluzione e ci ha provato anche in quel modo e io lo so perché posso capire a volte mi è capitato di sentire questi odori di marciumi di muffe di acqua stagnante ma in un frutteto una cosa del genere è inconcepibile e quest'anno mi ha ascoltato apportando diciamo gradualmente perché avendomi a fianco non può dire non si può fare oppure tutta questa roba poi vedi i frutti che il calibro è maggiore vede che anche lo spessore della buccia è più il colore e quindi quest'anno piano piano si sta convertendo arato solo in un senso e poi non arato più è andato con gli sfalci solo in un senso perché la conversione è lenta e difficoltosa esatto esatto puoi dirlo col microfono che è importante questa domanda in quanto tempo ci sono stati dei risultati validi è un frutteto mi riferisco sì a chi sta a casa stiamo parlando di un frutteto quindi un ambiente in cui c'è bisogno di tempo maggiore allora questa domanda dipende dal posto in cui siamo dalla capacità di approvvigionamento idrico e da quanto velocemente lo vogliamo raggiungere perché noi possiamo favorire apportando sostanza organica e quindi quello ti permette l'acqua la sostanza organica ti permette di far crescere più velocemente l'erba fare gli sfalci e poi l'umidità che fa il resto no favorisce quella la paglia che ha già un potere suo assorbente e termotemperante fa sì che si crei una condizione ideale a che i microorganismi sotto lombrichi e quant'altro che neanche lì so però sento che c'è vita e quindi questa cosa qui io l'ho potuta anche perché avevo questo terreno di cui stiamo parlando è un terreno limoso argilloso sabbioso cioè è perfetto e quindi a differenza di un altro che ce l'ho che è soprattutto sabbioso limoso l'ho raggiunta velocemente anche perché conoscevo le pratiche per farlo cioè quindi quanta acqua dovevo dare perché se ne dai troppa hai l'effetto contrario è importante infatti io ho capito anche con questo corso e con delle mie riflessioni ho avuto dei riscontri nelle cose che sta dicendo Giulio che l'irrigazione migliore per favorire la fertilità in un terreno che vuol dire piante buone frutti buoni è la microaspersione data mezz'ora al giorno oppure 15 minuti la mattina 15 lati però parlo di me che ho la possibilità di avere un pozzo con elettrico e con un timer farmi le irrigazioni però quello sarebbe il massimo perché tu non vai mai a bagnare non di lavi mai è sempre in aggiunta ma inumidisci inumidisci e mantieni sempre quel miglior compromesso tra no microaspersione una specie di micro gocce ad altezza terra parlo per me sarebbero degli irrigatori che spruzzano l'acqua a bassa altezza dal suolo e la nebulizzano questo sistema è ottimo ma bisogna fare attenzione a non far inaridire il suolo cioè lui va a inumidire in modo costanto senza farlo asciugare perché se asciuga troppo devi partire subito dall'inverno quando inizia perché se fai perdere tutta l'umidità al terreno è l'effetto della torba che diceva prima poi per farlo bagnare devi andare a scorrimento per farlo aumentare devi andare con i quintali d'acqua per metro quadro e i tempi credo secondo me pure in questi terreni qui ci sono dei frutteti nel giro di tre anni si possono avere buoni risultati chi non ha la possibilità di avere un pozzo sempre fisso e una microaspersione che sarebbe proprio l'ottimo può andare molto bene la distribuzione dell'acqua attraverso le ale gocciolanti e quindi fare piccole irrigazioni iniziando presto quando già ha una sua capacità di retenzione idrica di acqua che viene dall'inverno e quindi dare pian piano quest'acqua che continua a mantenere non fare delle grosse irrigazioni con intervalli molto lunghi frequenti ma brevi grazie Gianluca ed era tutta la prima parte di cui stavamo parlando a proposito di subirrigazione vado subito avanti a proposito di qualche altra cosa che ho aggiunto di me con le piccole conoscenze che ho a proposito dell'irrigazione che non è solo non esiste solo quella tradizionale di cui stiamo parlando che è un'irrigazione orizzontale più o meno in alto o sotto il suolo ma c'è anche possibilità di fare un'irrigazione verticale verticale come mettendo al momento dell'impianto al momento dell'impianto vicino alla piantina un tubo delle dimensioni più o meno di 5-6 cm di diametro che raggiunga questo tubo l'altezza delle radici cosa si fa? questo si può fare benissimo in condizioni di piccoli terreni riversando là dentro mettendo su questo tubo una bottiglia di plastica piena d'acqua così quel poco d'acqua che dai un litro e mezzo che dai va subito e solo alle radici ti garantisce l'attecchimento in terreni aridissimi e questa tecnica non l'ho imparata ma l'ho copiata eccolo qua beh questa non è proprio la foto di cui stavo parlando ve lo spiego tra l'altro questo tecnica che l'ho copiata dai suoli vulcanici che sono quelli completamente sabbiosi completamente permeabili permeabili anche se ricchissimi ma sono completamente dilavati ci sono anche tecniche ancora più dettagliate e particolari come questa in basso questa è la foto sul campo questa è il dettaglio dove è fatto in Spagna tra l'altro come vi potete accorgere dal linguaggio dalla scrittura quindi cosa succede che in Spagna hanno ambienti mediterranei molto severi in certi ambienti della Spagna è già deserto per natura in alcuni punti e quindi può essere utile mettere vicino alla piantina la paccia matura questo strato giallo ecco qua vediamo la paglia qui sono dei pomodori quindi ciclo di coltivazione in periodo caldo puoi mettere una bottiglia grande col tappo chiusa aperta inferiormente inferiormente va tolto il fondo e poi una bottiglia piccola che potrebbe essere una bottiglia da un litro e mezzo tagliandola a tre quarti più di mezzo litro di altezza è riempita d'acqua cosa succede che con il sole quest'acqua all'interno della bottiglia tende ad evaporare ma non se ne va nell'atmosfera ma ritorna al suolo qui e mantiene umido il nostro terreno questa è la stessa situazione di mantenere umido il terreno come diceva prima Gianluca naturalmente se il terreno è asciutto all'inizio va bagnato un po' di più questo è un sistema di mantenimento e il mantenimento è più costoso dell'irrigazione iniziale perché l'irrigazione iniziale lo fai una volta poi il mantenimento è tutto il periodo di produzione di queste piante e quindi può essere io penso che può essere utile valutare utile valutare questo sistema dove l'acqua è veramente un elemento preziosissimo specialmente per gli ortaggi gli ortaggi che hanno ripeto un apparato radicale superficiale non conviene con gli alberi da frutta gli alberi da frutta hanno un apparato radicale più profondo e al momento dell'impianto è meglio mettere un tubo verticale che porta l'acqua direttamente alle radici questo sistema può essere quello tradizionale sviluppato in campania oltre zone vulcaniche può essere fatto anche su larga scala si portano le ali cioè le linee che distribuiscono l'acqua dove è possibile e poi che lasciar cadere la gocciolina a terra la gocciolina la si fa andare al centro di quel tubo verticale che si mette vicino alla pianta così anche se dai una goccia d'acqua non la perdi va subito giù va sotto nel momento dell'attecchimento e nei momenti successivi se c'è possibilità di fare un impianto insomma l'acqua la si può utilizzare in modo capillare sì con il sistema della bottiglia del tubo infilato eccolo qua sì questo è un dettaglio per gli ortaggi io mi chiedevo magari è stupido ma non si può creare una situazione di marciume a livello delle radici visto che c'è sempre avevo tralasciato una cosa la bottiglia non va lasciata finché scende tutto la bottiglia innanzitutto va tarata va riempita della quantità che tu vuoi somministrare per gli ortaggi può essere eccessivo un litro e mezzo ne metti mezzo litro e lo lasci scendere poco alla volta per gli alberi da frutto un litro e mezzo è il minimo indispensabile sì c'è una domanda anche dietro spero di averti risposto ok dietro c'è per favore bisogno quindi l'irrigazione dall'alto è sconsigliatissima per gli alberi da frutta anche perché porta attacchi di cocciniglie muffe sulla cioma dell'albero sì abbassa la temperatura di tutto il frutteto ma la temperatura abbassata non compensa il calore dell'estate che abbiamo nel sud Italia e quindi anche se crei una foresta tropicale in un frutteto con una monocoltura fai un elevamento di cocciniglie di afidi di marciume e di muffe perché lì basta una pianta che viene attaccata e si diffonde trovi le condizioni di alie tutti intorno e sembra il problema di tante piante della stessa specie in poco spazio quindi la diffusione può essere velocissima immediata immediata e velocissima significa anche 15 giorni un mese e pregiudica tutto il lavoro che c'è stato in precedenza questa foto che ho messo qua sotto è quella che si applica a delle piante in vaso quando si va in vacanza molto spesso quando non si può dare l'acqua a quel minimo di piantine che abbiamo vicino a noi e invece la subirrigazione questa foto non è bellissima ma fa vedere questi tubi che si infilano a un certo punto nel terreno e vanno da sotto fino all'altro capo ci vuole molta pressione e maggiori quantitativi d'acqua ma in alcuni casi sempre meglio quello che disperde acqua disperdere acqua dappertutto allora una piccola scheda piccola relativamente scheda tecnica di arido cultura spero di non avervi confuso le idee di non avervi dato insomma tante indicazioni strane però vi ripeto sempre che la natura non ha dei parametri messi dentro una griglia ed universali questi parametri queste schede questi consigli sono sempre relativi al luogo in cui si va a operare relative al luogo in cui si va a operare è facile intendere cosa vuol dire allora per ridurre l'evapotraspirazione terreno e favorire l'immagazzinio dell'acqua meteorica è l'aratura autunnale da noi a volte anche in Italia altri ambienti argillosi prettamente argillosi l'aratura si fa a maggio e si chiama maggese e quindi viene fatta alla fine della primavera perché anche un temporale estivo se ci dovesse essere serve a far rimagazzinare acqua nel suolo oltre che a cuocere l'argilla come dicevo prima se altrimenti questo non è possibile o è consigliabile quella autunnale ancora meglio perché l'aratura del suolo permette l'immagazzinamento dell'acqua almeno nei primi periodi se si vanno a mettere delle colture intensive aggiungo per il nostro piccolo orto non è necessario fresatura superficiale in cosa serve l'effetto non avevo scusate avevo tralasciato di dire la tecnica e l'effetto la tecnica della fresatura interrompe la risalita dei capillari frantumando il terreno in superficie è quello che fanno i polli lo rimescolano lo polverizzano e l'acqua per capillarità non se ne viene verso l'alto perché l'acqua viene richiamata per capillarità cioè passa attraverso degli spazi sottili come un capello nel terreno se nella parte superiore è asciutto quindi è asciutto l'acqua da sotto viene verso l'alto e il processo si innesca in modo irreversibile la natura è perfetta per certi versi ma in alcune situazioni diventa complicato poter gestirlo ecco perché è il solito prato il solito prato che blocca questo sistema altrimenti si va a ricorrere sulla fresatura di Serbia meccanico chimico non l'ho potuto eliminare ma io l'avrei eliminato piuttosto quello meccanico significa togliere le piantine con qualche attrezzo non è niente di tanto grave se mettiamo i nostri ortaggi e vicino sta crescendo una pianta spontanea che in 15 giorni diventate 10 volte più grande o la si toglie o la si riduce spuntandola accorciandola quant'altro oppure la nostra piantina erbacea avrà una vita molto difficile chimico non lo considero nemmeno perché insomma è un'aberrazione poi modellamento superficiale del terreno con sistemazione a porche e conche porche e conche mi sembrano delle parole un po' offensive in realtà sono i sistemi con cui il terreno viene preparato e gestito le porche sono delle strisce di una determinata larghezza e una certa lunghezza dove il terreno viene rivoltato più o meno tutto quasi verso l'interno le conche tutti i contrari il terreno viene rivoltato all'esterno e si formano una sottospecie di canali ma di piccole dimensioni non si va in grandi profondità modellamento quindi miglioramento del suolo attraverso lavorazioni accurate le lavorazioni accurate sono quelle di cui abbiamo parlato abbondantemente quello di nel nostro piccolo orto familiare non intervenire in modo eccessivo e maniacale ma piuttosto controllare come va la situazione incremento di sostanza organica un apporto di letame compost e sovesci attenzione però letame il letame se è fresco ed è in grandi quantità non è più qualcosa di utile ma è un veleno quindi dovrebbe essere vecchio o maturo se è molto vecchio e non è maturo addirittura è quasi humus è quasi compost io uso quello quel sistema lì di mettere l'etame molto vecchio molto maturo perché ne ho la possibilità per quel piccolo quantitativo e è noto che le piante vanno bene perché gli dà quella spinta iniziale però non avvelina il suolo anche perché se ne mette veramente una manciata per ogni piantina per gli ortaggi le ornamentali per esempio gradiscono il letame quelle a reazione acida ortenzie camelie cigas se gli si mette un po' di letame a volte serve ad aiutarle anche quando sono diventate le foglie gialle però se le foglie sono troppo gialle il letame viene assorbito lentamente l'effetto non è immediato quindi bisogna correre altre soluzioni a volte di tipo chimico serve a prevenire perché come anche in questo caso come dicono i dentisti prevenire è meglio che curare se vediamo i primi segni bisogna intervenire costa di meno quindi il letame può essere usato attraverso tante forme per diverse soluzioni pacciamatura mediante stesure di film plastiche ne abbiamo parlato pianimazione di alberi reti o altre protezioni in funzione del frangivento però attenzione le reti costano e hanno effetto limitato se questa primavera vogliamo subito andare ad agire nel nostro terreno e c'è veramente tanto vento magari carico di salsedine può essere utile valutando nel costo mettere delle reti frangivento perché sicuramente la siepe che andiamo a mettere per quanto grande che sia frangivento non ne farà tanto casi estremi ci sono anche soluzioni estreme piantumazione di alberi reti manca una R introduzione di specie arido resistenti nell'ordinamento culturale le specie arido resistenti credo che da oggi pomeriggio ne avremo a bizzeffe a portata di mano grazie ad Angelo perché ha un'esperienza veramente grandissima per queste tecniche questi sistemi scelte scelte di varietà arido resistendo precoci è molto simile al precedente perché sono quelle specie tipiche dell'ambiente mediterraneo che nei secoli erano state selezionate tra l'altro fino a forse 30 anni fa circa le specie arido resistenti erano tante tante di più rispetto ad oggi perché oggi è stato considerato molto più veloce sbrigativo innaffiare pure le fave e i piselli come le rape e quant'altro una volta non c'era questa possibilità di avere i tubi di polietilene i tubi di gomma a costo bassissimo che li porti dappertutto innaffi da sopra il tetto fino alla cantina e una volta era complicatissimo l'acqua si portava solo per scorrimento oppure trasportandola in dei contenitori a dorso di animale non c'era possibilità diversa di avere sistemi di irrigazione economici e quindi si coltivavano piante che erano da sole arito resistenti le piante che davano migliori frutti più bei frutti più grossi ed erano quelle che avevano avuto migliore resistenza al caldo di quelle si prendevano i sebi e se ne facevano a generazione successiva facendo questo nel corso di tanti e tanti anni e secoli si erano ottenute quelle piante che andavano benissimo è stato perso per colpa sempre della modernità che corre in modo frenetico senza guardare tutto intorno e mi fa piacere che adesso si tenta ancora si fa ancora in tempo a recuperare la cosa bella che questa situazione non è completamente disperata ma si può ancora recuperare tantissimo la crisi di cui si parla tanto induce molte persone a pensare di coltivarselo da sé l'orto o un piccolo frutteto recuperare quel terreno che magari non si sapeva neanche dove stava dove si trovava dei nonni magari chissà dove però può essere utile valorizzare quel che si ha scelta di portinnesti a proposito delle piante da frutto e questo ripercorre ciò con cui avevo iniziato nei primi giorni quello di usare i portinnesti arido resistenti e ripeto per chi segue da casa per chi non c'era usare come portinnesto il pirus salicifolia o amigdalifolia come si suol chiamare è meglio del cotogno per far crescere il pero perché il pero di solito è innestato sul cotogno ma il cotogno è una pianta delicata e non è tanto arido resistente e soprattutto è anche una vita molto breve sul perus salicifolia su quel pero selvatico se vi ricordate l'immagine è chiamato anche perastro si ha una pianta che produce dei frutti con una corteccia un po' più spesso lo ribadisco ma quella corteccia un po' più spesso non è un fattore così tanto grave se quella corteccia più spessa riduce la perdita d'acqua riduce l'attacco degli insetti e soprattutto faccio crescere le pere in un ambiente che forse prima non si poteva neanche immaginare di far crescere degli alberi da frutta naturalmente l'altra cortezza è di usare anche le vecchie varietà di alberi da frutta perché se vogliamo usare delle pere moderne che pesano 400-500 grammi l'una in ambiente semidesertico come certe scarpate molto aride dove il pero selvatico cresce poi diventa complicato non saranno frutti di prima qualità perché tra l'altro il pero selvatico i frutti che produce sono piccoli così poco più grossi di una ciliegia anche a volte come una ciliegia perché con quella dimensione può essere sicuro di riempire tutti i semi tutti i germogli e renderli tutti fertili tanti e piccoli ma sicuri piuttosto che uno e forse per l'albero se andiamo in quella direzione assecondiamo la natura e ci troveremo bene anche noi epoche di semina precoci e tempestive e per ripercorre anche quello che abbiamo già detto e riducono la necessità in rigue grazie al favorevole ciclo di sviluppo rispetto alla distribuzione delle precipitazioni e questa sarà solo la base di partenza per tutto quello che verrà dopo io per adesso ho finito se ci sono domande poi volevo dire una cosa visto che ci sono state tante richieste voglio mettere sul tavolo due fogli uno dove lascio i miei recapiti però vi prego non abbandonate subito se non vi rispondo immediatamente perché già in quest'autunno ho diversi impegni a destra e manca quindi non sto tutti i momenti dietro il computer già ci sto poco di natura ma poi quando ho degli impegni ci sto ancora meno però almeno ogni tanto qualche volta al telefono rispondo se non ho le mani nel terreno piene di fango che a volte mi succede le mani piene di fango e non puoi prendere il cellulare in mano però cerco di rispondere almeno richiamo ai numeri che trovo che mi hanno chiamato il limite è possibile insomma non vi arrendete se avete bisogno di qualche cosa quindi un foglio con i miei ricapiti e poi un altro foglio rivolto a quelle persone che mi avevano chiesto delle consulenze specifiche a casa propria così mi serve per vedere la distanza dei paesi dove si trovano in modo da organizzare un unico viaggio e passare a salutare a trovare un po' tutti quanti io vorrei tanto restare perché adesso avrei io da imparare anzi ho da imparare ma andrò via via stasera alla fine verso le 5 le 6 così perché ho degli altri impegni purtroppo mi dispiace moltissimo non poter rimanere per l'ambiente per la situazione per quello che avrei bisogno di imparare poi spero di beccare anche io qualche registrazione qualche cosa o i racconti di qualcuno per darmi delle indicazioni quindi stasera devo andare via e poi insomma ci sentiamo ciao grazie a tutti grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti